Sì, benissimo, 193, sto facendo anche io il filmato, riprendendo sia la radio e sia la comunicazione del computer, poi lo caricherò anche da qualche parte, se il vostro permesso, dimostrazione che il link di Montestella funziona molto molto bene, lo dicevo due, mi sto ascoltando, e niente di più, qua trasmesso 879 per 193 che poi rilancerà per l'amico di Padova, che ho perso qua la sigla, va bene, benissimo. Grazie. Vi auguro buon divertimento con quel link, sento, sento Matteo che si ritorna dentro, ci stai divertendo ad altro da spostarti, il problema è che quando ti autoascolti noi non capiamo più niente perché ci ritorna indietro un effetto lassen incredibile. comunque dai, buon divertimento e chissà che ci siano nuovi sviluppi per la gancia di questo postlink, no, il postlink è quello sopra, forse sì, quello che è per la gancia del Montestella. Ragazzi io vi saluto perché ci è fatta una certa e domani 8 sui ricomincia a trabarcare, tanto per cambiare andiamo a montare bene. Ok, la 1F-Lin288, dopo lì, Padova, fa QRX e poi QRT. Grazie a tutti, grazie Francesco, grazie Matteo per le fate piacere e buonanotte a tutti. Sì, benissimo, 8, 7, 9 riprendendo. Sì, sto anche facendo qua un filmato che poi caricherò là su Facebook, su gruppo Filradia Italia, ma come avete detto voi, si sa che il sistema funziona molto molto bene. Quanto riguarda agganciarlo la vedo un po' dura ma appena riesco a impostare il subodono, ci proverò senz'altro. Qua la 8, 7, 9 vi saluta e finalizza con la buonanotte. Sì, si riprende 1-1-2-3 Francesco. Matteo, quando finisce la trasmissione magari rilancia per qualcuno, perché così c'è un po' complicato, non può tutti riprendere. Comunque, saluto il Lodovico, 288, grazie per le quattro chiacchiere, magari ci ascoltano nei prossimi giorni. Ti auguro una buonanotte, un buon tutto e a risentirci. Ho letto qui in giusto il Pietro.